Tre pregiudicati sono stati arrestati a Palermo con l'accusa di essere gli autori dell'uccisione di Antonino Zito, avvenuta nel dicembre scorso e maturata nell'ambiente degli spacciatori di droga. Sono Carmelo Ferrara di 33 anni, Pietro Mazzara di 25 e Maurizio Pirrotta di 28, tutti residenti nel quartiere palermitano di Bonagia. Attraverso le indagini i carabinieri sono risaliti a un incontro tra la vittima e i tre arrestati in un chiosco per la vendita di cibo da strada poco prima della scomparsa di Zito. Il giovane, con precedenti penali per traffico e spaccio di stupefacenti, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo essere stato costretto a inginocchiarsi. Una vera e propria esecuzione. Il corpo carbonizzato di Zito fu scoperto il 19 dicembre 2012 in contrada a Spedalotto Valdina, una zona agricola nei pressi di Bagheria.